Buonanotte, tranquillo, buonanotte. Napoli Juventus, Napoli Juventus, ho visto che scugira, stavo rispondendo in chat ragazzi. Bene così andiamo a vedere cosa riusciamo a fare. Questo Napoli Juve, andiamo a schiena di gioco, tutti bene ragazzi, tutti bene in attesa dei nuovi acquisti. Non ho controllato ma non credo che c'era qualcuno, bisognerà vedere domani, forse con qualche giornata di formazione. Ok andiamo al match, speriamo anche con questa formazione, con questo schieramento. Andiamo a vedere cosa succede. Scaldiamo anche un po' le mani. Napoli Juventus. Si parte. Osimène, muove la prima palla. Lobotka allarga subito per Mario Rui. Rui, palla per l'inistro, non prova a dribblare, non ci riesce, attenzione Rui. Palla dentro, Lobotka non riesce ad intervenire, Shevchenko. Passano tutti. Poi Nathan spazza subito, guarda schierare di provare a saltare, non ci riesce. Torna ancora Lobotka. Messi dalla distanza, palla fuori. Provano a partire forte loro. Meret. Meret. Dentro Diego, palla per Anghissà. Vada Osimène, appoggia l'inistro. Dentro per Maradona, riparte la Juve. Lobotka, Mario Rui. Kvara Schiele allarga per l'inistro, dentro per Rui. Prova ad andare dentro dall'inistro, che alza il pallone per Kvara, che ne riesce a colpire. Attenzione, Lobotka, Anghissà, Osimène. Palla per Maradona, che l'appoggia all'inistro. Dentro per Rui, che prova il cross per Victor. Niente da fare. Riusciamo ad affondare il colpo, ragazzi. Prova ad andarsene. C'è 5. Torna ancora. La Juve attacca. Rackmani. Palla per l'inistro. Manghissà. Maradona. Palla dentro ancora per l'inistro. Cerco Simen, che viene fermato. Kvara Schiele, prende palla dentro per Maradona. Molto giù di finatura. Rackmani. Kvara Schiele, appoggia per Anghissà. Si annunca troppo il pallone. Lobo non riesce a recuperare. Attenzione, attacca la Juve. Va ancora anche Nathan. Lobotka. Grande intervento di Lobo. E ancora Lobotka. Palla fuori. Anghissà. Di tacco per l'inistro. Vada Kvara Schiele. Dentro per Maradona. Che fa correre Osimène. Che l'appoggia ad Anghissà. Vada di qua ancora. L'inistro. Prova il tacco l'inistro. Riesce ad andare da zambi. Anghissà ancora. Palla ancora indietro a Anghissà. Attenzione, partire è difficile. Anghissà. Prova ad andare. La Kvara Schiele non ci riesce. Di Lorenzo. Ripopera la palla. Di Lorenzo. Largo da Anghissà. Si ferma Zambi. Anghissà. Palla per Lobotka. Nathan. L'inistro. Mario e lui. Prova a portare palla a lui. Dribling di lui. Va dentro da Kvara Schiele. Prova a ritardare la Kvara. Niente da fare. Lobotka. Attenzione, Lobo. Grande intervento di Lobo. Ancora per Rui. Prova ad andare dentro. Niente da fare. Lobotka. Ricora ancora palla. Rui. Dentro per l'inistro. Kvara Schiele. Maradona. Anghissà dentro per Rosimena. La palla non passa. Ricopriamo palla ancora qui con Kvara Schiele. Appoggia dosi. La prova a ritardare Kvara Schiele. Non siamo fortunati. Di Lorenzo. Ricora palla Giannino Di Lorenzo. Di Lorenzo. Prova ad andare dentro. Niente da fare. Ripatte ancora la Juventus. Va dentro con Pempe. Meret. E poi Lobotka. L'inistro. Mario Rui. Kvara Schiele. L'inistro. Mario Rui. Dentro per Kvara Schiele. L'appoggia per l'inistro. Che sta arrivando. Palla troppo larga di Kvara. Vede. Partita molto difficile. Finitura. Torna attenzione. Kvara su Davids. La palla è rigorata da Mario Rui. Sbaglia tutto Rui. Ricora palla poi Anghissà. Maradona. Allarga per l'inistro. L'inistro dentro per Kvara Schiele. Che prende palla. Kvara Schiele può tirare. Niente da fare. Osimène. Si sposta il pallone. Niente. Lobotka. Proviamo ancora a spingere. Con Rui. Maradona. Appoggia all'inistro. Si ferma l'inistro. Dietro per Diego. Palla per Kvara Schiele. Che si gira. Doppio giro. Kvara. Tiro. Donnarumma. Donnarumma. Rilancio lungo. Attenzione. Scevchenko. Provano ad attaccare la Juventus. Con Nathan. Viene a riesce di intervenire. Poi invece Rachmani. Sì. Ma la palla resta lì. L'inistro. L'inistro. Intra a fare. Nathan. Recupero palla. L'inistro. Palla per Kvara Schiele. Dentro. Ma lì era fallo. Però ragazzi si chiama. Sto fallo. L'inistro riesce a intervenire. Palla dentro. Poi. Di Lorenzo. Mario Rui. Riesce da rilasciare la punta. L'inistro. Kvara Schiele. Attacco per Maradona. Prova a ritagli. Alla fine perdiamo. Palla. Lobotka. Arriva dentro. Attenzione. Palla verso Pempe. Meret. Mamma mia. E poi Lobo. Palla per Anghissà. Abbiamo rischiato tantissimo. Simen. Maradona. Lobotka. L'inistro. Kvara Schiele. Non riesce a girarla di prima. Qui. Arriva Nathan. Palla dentro per L'inistro. Che purtroppo si allunga inutilmente la palla. Rilanciano ancora loro. Lobotka. Ancora. Finisce il primo tempo. Combattutissimo. Ragazzi. Partita veramente difficile. Questa che si sta costruendo contro l'A2. Ragazzi. Entra la partita complicatissima. Tutto molto giusto. Attenzione. Si riparte o si menna. Solo per un attimo. Prova ad andare a dare una mano. Si niente da fare. Palla dentro. Neymar. Tiene palla dentro. C'è Di Lorenzo. Se la va a riprendere. Poi se la lunga incredibilmente. Tenuto in mente. C'è Racamani. E torna anche Di Lorenzo. Pimpeu. Meret. Eh. E qua. Sono un cretino io. 1-0. E c'è il gol. 1-0. 1-0 Juve. Osimente. Lobotka. Palla per Mario Rui. Dentro per Lindstrom. Vada. Vada Cavaraschelia. Tacco per Maradona. Dentro ancora per Cavaraschelia. Che prova ad andare dentro. Vierà. Recupera palla. Attenzione. Palla lunga qui. Maradona. Messi. Riparte ancora la Juve. Palla dentro. Lobotka. Recupera palla. Palla per Cavaraschelia. Si gira Cavaraschelia. Dentro per Lindstrom. Vada Maradona. L'appoggia per Anghissia. Ancora Simei. Non riesce a girarla. Cavaraschelia recupera palla. Cavaraschelia dentro da Maradona. Niente da fare. Diego se la va a prendere. Niente. Incredibile. Non riusciamo a sfruttare bene i loro errori. Come loro hanno fatto con noi. Niente da fare. Riparte ancora la Juve con Nathan. Se la va a prendere la palla su. Nimar Lobotka. Palla per Anghissia. Che rientra Maradona. Osimen. La gira dietro per Rachmani. Lobotka. Cavaraschelia. Tacco per Diego. Brutto tacco per Diego. Insezione Lindstrom. La prende solo per un momento. Posta curta. Prova a rilanciare lungo. Lobo Anghissia. Maradona. Di Lorenzo. L'appoggia ancora a Anghissia. Palla per Diego. Però. Lascia fare troppo la palla. Ma le serve qualche cambio. Soprattutto a livello tattico. Secondo me. Non stiamo andando bene. Non stiamo andando bene. Lindstrom. Palla lunga qui. Riescono ad intervenire. Credibile Nathan qui. Racamani. Palla per Lindstrom. Appoggia a Anghissia. Che va da Maradona. Dentro per Victor Rosimena. L'appoggia. L'appoggia dietro a Di Lorenzo. Si fa anticipare però. Niente da fare. Brutta brutta partita fino ad ora. Attenzione Nathan. Racamani. Palla dentro per Anghissia. Che appoggia a Maradona. Che è un po' di Campodiego. Maradona. La alza per Victor Rosimena. Che la prende. Va dentro Victor. La alza. Donna Rum. Lancio lungo. Anghissia. Vai di Abronsia. Il colpo di testa. Riparte ancora. Nemar. Dentro per Maradona. Osimena. Niente da fare. Arriva ancora Diego. Rientra Diego. Si gira. Maradona. Spara da lontanissimo. Donna Rum. Poi Vierat. Vedibile qui. La Norma. Niente stoppata. Per Vierat. Lobotka non riesce a recuperare. Ancora Osimena. Prova ad andare in chiusura. Paraschelia. Prova ad andare incontro Donna Rumani. Intera fare lo Bocca. Anghissia. Palla per Maradona. Dentro per Osimena. 1-2 con Paraschelia. Bene. Osimena. Dentro ancora per Paraschelia. Gran giocata. Qui c'è Paraschelia. Mette tutto in parità di nuovo. Gran giocata di Victor Rosimena qui. Siamo passati. Questa volta tiro pulito. E Kvara non sbaglia. Molto bene. Togliamo l'istro. Ma là dentro Giacomino Raspadori. Stiamo giocando tutto in velocità. Dentro Raspa. Il posto di Osimena. Metto un instrom dall'altro lato. Perfetto. Maradona. Un po' più alto. Anghissà di qua. Avviamente. Andremo a sostituire anche Zamm. Anghissà. Cori in instrom. Dentro. Politano. Bisogna di allargare un po' il gioco in realtà. Quindi. Faccio tornare ad essere esterni. Le due ali lì. Maradona va bene. Lobotica lo abbassiamo. Anghissà lo togliamo. Dentro. Caciuste. Anghissà è stanco. Perfetto. Liveiro al posto di Mario Rui che è stanco. Va benissimo. Così ragazzi ci sarebbe il ciolito in fire. Ma vorrei lasciare qua la Schella che sta giocando davvero bene. Toco Rattomani in realtà che è molto stanco. Metto Mazzocchi un po' più di spinta. Sposto di Lorenzo centrale. Andiamo così. Siamo 1-1. Cambiamo un po' le carte in tavola. Un po' di velocità con Giacomino Raspadori. Centrale. Punta centrale. Raspadori. Subra a cercare di recuperare palla. Caciuste. Raspadori dentro. Sbaglia però. Caciuste. Niente da fare. Lobotica. Mazzocchi. Nathan. Mazzocchi. Palla verso Caciuste. Caciuste se ne va. La alza per Diego Maradona. Però sbaglia lo stop. Incredibile ma vero. Palla dentro Nathan. Passiamo Caciuste. Maradona. Si gira Diego Maradona. Prova di andare. Diego Maradona. Raspadori. Di Lorenzo. Palla per Mazzocchi. Che allarga adesso per Politano. Si gira Politano. La dà Caciuste. Che però sarà lungo. Peccato. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Proviamo a chiudere gli spazi. Si palla dentro Lobotica. Chiusura pazzesca di Lobotica che evita il patatrack. Questa partita intanto calcio d'angolo per la Juve. Un De Ligt che cerca palla. Quara Schelia. Calcio d'angolo ancora. Calcio d'angolo ancora. Per angolo per loro. Attenzione. Un Quara Schelia. Pronto sul primo palo. Anche Pempe. Provano ancora verso De Ligt. Che riesce a spizzarla questa volta. Tutto dentro. Non era facile. Meret. La mette fuori. Faccio d'angolo di Torres. Potrebbero non averla un'altra opportunità. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Di Bruina ancora dalla bandierina. Palla dentro. Quara Schelia prova a staccare. Non ci riesce. Dai. Ma che gol di merda è. Ma che cazzo di gol di merda è ragazzi. 2-1 Cancelo. Mamma mia. Palla dentro. Politano. La palla non passa. Palla lunga qui. Riescono ad andare a stoppare addirittura sempre con quel cazzo di Cancelo. Torna. Mazzocchi. Cancelo fino in fondo. Mazzocchi non riesce a chiudere. Ma dai. 3-1. 3-1. Torres. Palla lunga. Mazzocchi. Politano. Maradona. Si gira. Diego Maradona. Ma perché ti sei fermato questo? Perché. Aspatori. Prova ad andare a chiudere. Niente da fare. Caciuste. Recupera qui palla. Ma va a perdere ancora il brutto ingresso di Caciuste in partita ragazzi. Brutto, brutto ingresso di Caciuste. Qui chiude di Lorenzo. Una grande intuizione. Mazzocchi prova ad andare. Nathan si fa robare ancora questa palla. Finale di partita bruttissimo ragazzi. Veramente brutto. Veramente, veramente brutto. Pempe fa tutto lui. Palla fuori. Ormai è così. La partita ormai è andata. Aiù. Purtroppo. La perdiamo 3-1. Veramente, veramente male così. Meret. Prova ad andare lungo. Due golli idioti presi. Addirittura l'Aspatori a saltare. Niente da fare. Abbiamo pressoché mollato. C'è Pempe. 4-1 addirittura. Dalla Juventus. In casa nostra. L'Aspatori. Caciuste. Allarga per Olivera. Credibile. Abbiamo fatto veramente di tutto. Caciuste. Finisce qua. 4-1 ragazzi. Questo. Questo debacle che è veramente arrivato nella finale di partita. Abbiamo giocato veramente male. Veramente, veramente male. Questa prima partita di divisione 3. Voi che non va proprio bene. Va proprio bene infatti. Perdiamo 3-10 punti. Andiamo addirittura sotto i 1.2.